Il livello tattico è qualcosa che va sempre dimostrato sul campo, non è che poi ti presenti su un campo di regata e diciamo grazie al tuo livello arrivi in una certa posizione. Cioè questo quantomeno non succede sempre che non ci siano condizioni abbastanza semplici, no? Quando le condizioni sono veramente complesse, purtroppo diciamo che i tattici vengono messi abbastanza alla pari l'uno con l'altro. Cioè quando la condizione è veramente difficile devi veramente essere in sintonia col campo di regata e capire bene cosa succede. Guardarti intorno è una persona diciamo tra persone di intelligenza media, penso che poi alla fine è altri fortunati, meno fortunati. Insomma comunque diciamo che si è tutti più o meno alla pari, bisogna veramente metterci dell'impegno. Vengo da una serie regate dove, tre regate, dove veramente non ne ho zaccata una, ma proprio neanche per sbaglio. E questo però mi sono reso conto che a un certo punto dicevo ma non è possibile, cioè io queste cose qua le ho sempre fatte bene, non è possibile che mi vada sempre male. E invece è possibilissimo perché poi è un po' come la storia delle possibilità, cioè una volta che ne hai cannata una poi quella dopo non è che la devi far giusta. Cioè purtroppo puoi cannare anche la successiva con una certa probabilità, insomma. Quindi purtroppo il livello non ti salva da nulla. Quindi vi posso dire con allegria che sono riuscito l'ultima prova addirittura a far fare fuori tempo massimo la barca su cui navigavo. Perché così ho sbagliato sul calo di vento, ho fatto una regata schifosa, poi sul calo di vento in più. Mi sono trovato nel momento cruciale la parte sbagliata, non sono più riuscito in pratica a prendere arrivo. Quindi sono arrivati, praticamente sono passate tutte le barche che noi dietro sono passate. Quindi per dirvi, io non è che pretendo di avere un chissà quale livello, però sicuramente a livello di arrivare in tempo massimo pensavo di essere. E invece no, perché poi alla fine quando si tratta di stringere siamo tutti a pari. E quindi bisogna combattere con tutti e se non sei in giornata non c'è tanto verso, insomma. Puoi provare a salvarti, quello sì. E questo è stato il mio errore, quello di avere la presunzione di poter recuperare dei miei errori quando avevo una, diciamo, un'ispirazione. Pensavo di poter, che poi sono ispirazioni che vengono comunque dall'esperienza, no? Pensavo di poter recuperare invece è stata una sequela di errori che fondamentalmente hanno portato al disastro finale. Per cui nulla, insomma. Quindi non ci affidiamo troppo delle nostre capacità, delle nostre, diciamo, schemi che funzionano. Perché ci sono delle condizioni in cui comunque gli schemi non funzionano più e bisogna andare più ad intuito e più, diciamo, di sensibilità. E se quel giorno non ce l'avete, non c'è verso. Ciao, buona giornata. Buona giornata.